Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Gamezone, oggi il gameplay è di Call of Duty, infatti abbiamo ricominciato il gioco con il nuovo profilo Casual Nerd of YT per poter essere sul pezzo e poter giocare prossimamente insieme a voi sul nostro PSN Ecco qua, infatti come si può vedere abbiamo fatto tutta la prassa iniziale, velocizzata a ritmo di hip hop perché a noi piace anche questo genere musicale oltre che a sparare e fare anche abbastanza schifo perché siamo sicuri che con questo livello 1 da cui partiamo e da cui ricominciamo sarà una bruttissima partita quindi va bene e proviamo a giocare allo stesso E allora, vediamo un pochino Cominciamo subito benissimo, anziché andare subito in mezzo io andrei un pochino largo sulla destra Infatti là, eccole, in fondo ci sono Mardaca Ecco infatti come si può vedere la granata è arrivata dritta dritta in faccia No, allora cambiamo strategia, andiamo dritti Niente, andata a granata Sicura di merda Vabbè, allora, proviamo di qua, proviamo di qua No, cioè è impossibile Vabbè, la musica diciamo che è da contorno perfetto per questa partita Perché Questo coso qua mi sale, sparo, sale su, va su Ha un rinculo Ma ancora Uno morto Uccise nel 100 100 Fatto uno Uno fuori, uno fuori E di qua arriva, arriva col pistola No Che schifo Andiamo così No look No look morto Vabbè, il peggiorio è apparire di tutta la mia vita Ma vabbè, usarò la scusante del livello 1 Quello lì No Questo è mio, questo è mio No, questo qua è mio Questo è mio, questo è mio E già E già No ecco, è già finito tutto Ricominciamo a fare schifo Ricominciamo subito a fare schifo Allora, giù nella casetta Eccolo Eccolo, eccolo, eccolo No Ma dai cacolo, ho capito Sì Lui, lui, lui Sta scappando Scappi, scappi, scappi Sei mio No, no, dai Ma lasciami fare Eccolo lì Morto Visto Andiamo giù di qua Vediamo un pochino cosa c'è Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente Lanciamo una granata Morto Dai Allora Finita È stata una partita così brutta Grandi Complimenti Abbiamo ricominciato veramente benissimo Va bene Le prossime partite andranno sicuramente meglio Non vi deluderemo Siamo certi Speriamo che con questa vi abbiamo fatto sorridere Mettete like al video se vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Alla prossima Alla prossima Alla prossima